ciao a tutti oggi prepareremo lo sciroppo di alloro per tosse raffreddore il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono foglie di alloro acqua miele zucchero di canna e limoni tagliati in quarti con tutta la boccia andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua le foglie di alloro e i limoni ed azioniamo il bimbi per 6 minuti 100 gradi velocità soft aggiungere lo zucchero di canna ed azioniamo il bimbi per 40 minuti 80 gradi velocità soft aggiungiamo il miele ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità soft lasciare riposare per 30 minuti successivamente filtrare con un colino a maglie strette sciroppo di alloro per tosse raffreddore si conserva in frigo per 15 20 giorni le dosi sono un cucchiaio di sciroppo per tre volte al giorno agitare bene prima dell'uso grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti